Almeno 19 persone sono state uccise sabato quando una bomba collegata a una bambina di 10 anni è stata fatta esplodere in un mercato affollato di Maiduguri, la più grande città nel nord-est della Nigeria. La polizia locale, tramite il portavoce, ha dichiarato che ci sono state 20 vittime e 18 feriti, tra cui la bambina Kamikaze. L'esplosione è avvenuta nell'ora di punta, erano circa le 12.40 e il mercato era pieno di gente.